Dopo aver proclamato le beatitudini, Gesù si rivolge ai suoi discepoli che le hanno accolto e dice loro, voi siete il sale della terra. Qual è il significato di questo sale? Da sempre nell'antichità il sale aveva il significato di quello che conserva gli alimenti. Gli alimenti non esistendo i frigoriferi si mettevano sotto sale e questo permetteva di essere conservati. Da questo fatto di conservare gli alimenti poi il sale passò in maniera figurata a rappresentare quello che rende valido e vero un'alleanza. Per esempio su un documento per dargli valore di validità continua si spargeva sopra del sale. Allora questo sale nell'antico testamento è diventato addirittura il segno dell'alleanza di Dio con il suo popolo. Nel libro del Levitico per esempio si legge non lascerai mancare il sale, cioè la fedeltà, dell'alleanza del tuo Dio. Quindi il sale è quello che rende valida e continua l'alleanza tra Dio e il suo popolo. Gesù nelle beatitudini ha proclamato la nuova alleanza tra Dio e il suo popolo ebbene quelli che la colgono, i discepoli, devono essere con il loro atteggiamento, con la loro vita, i garanti di tutto questo. Quindi la fedeltà dei discepoli alle beatitudini rende valida la nuova alleanza e permette l'inaugurazione del regno. Allora Gesù dice voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, l'Evangelista in realtà adopera un verbo che non si applica per le cose ma per gli uomini, perché l'Evangelista scrive se il sale impazzisce. Cosa significa questo impazzire? Si rifà a un termine pazzo, che poi ritroviamo nel capitolo settimo di questo Vangelo, il versetto 26, dove Gesù parla di un pazzo che è andato a costruire la sua casa sulla sabbia. Quando è arrivata alla fiumana la casa è stata travolta e questo pazzo che costruisce sulla sabbia è colui che ascolta le parole del Signore ma poi non le mette in pratica. Allora questo sale che impazzisce indica l'atteggiamento di quei discepoli che accolgono con entusiasmo il messaggio di Gesù, ma poi non lo mettono in pratica. Allora Gesù dice se il sale impazzisce, quindi se non mettete in pratica queste mie parole, null'altro riesce a renderlo salato. E a nulla serve che ad essere gettato via, letteralmente l'Evangelista scrive fuori, che nel Vangelo di Matteo ha sempre un significato di lontananza da Dio, quindi è sempre un significato negativo, e calpestato, Matteo adopera un verbo che dà proprio l'idea di qualcosa che viene triturato, calpestato, dalla gente. Cioè se voi non siete fedeli, sta dicendo Gesù ai discepoli, a questa nuova alleanza alle beatitudini voi che vi seguite, ebbene meritate soltanto il disprezzo dalla gente. La gente che attende da voi un'alternativa a questa società, che attende da voi una modalità diversa della vita, se vede che voi avete accolto questo messaggio a parole, ma poi non lo praticate, rimane delusa e si perde, quindi meritate il disprezzo. Poi Gesù passa un altro esempio, voi siete la luce del mondo. Luce del mondo a quel tempo si considerava Gerusalemme, si considerava Israele, il profeta Isaia che nel capitolo 60 scriveva cammineranno le genti alla tua luce. Ebbene, ora la luce del mondo non è più qualcosa di statico, ma qualcosa di dinamico. E il gruppo dei discepoli che poi alla fine del Vangelo Gesù li manderà ad annunziare questa buona notizia. E qui Gesù fa degli esempi riguardo questa luce, dice che la lampada non si accende per metterla sotto il moggio. Perché l'Evangelista adopera questo termine moggio? Moggio era il recipiente che si adoperava per misurare o conservare i cereali, in particolare il grano. Ebbene, il moggio è immagine di quello che si dona, di quello che si dà. Il moggio allora non deve nascondere la luce, ma ne deve essere l'espressione. Questa luce si manifesta nel dono, nel donare se stessi. Infatti dice, metterla sotto il moggio, va sul candelabro, così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. E conclude Gesù, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone. Ecco, la luce sono le opere buone. Sono le opere che manifestano questa luce. Quindi Gesù non li invita ad insegnare una dottrina, ma una pratica. La pratica delle beatitudini manifesterà visibilmente chi è Dio, chi è l'uomo, e sarà questa luce che inonda la società. Ma queste opere che sono la luce del mondo devono servire, aggiunge Gesù, e rendono gloria al Padre vostro che è nei Cieli. Quindi non la propria gloria per la propria ammirazione. Gesù poi, più avanti, nel capitolo VI, vi improvererà quegli ipocriti, cioè teatranti, comedianti, e dirà guardatevi al compiere le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati. Questo è il peccato di idolatria. L'ammirazione e la gloria di queste opere vanno dirottate e per la prima volta nel Vangelo di Matteo Dio viene presentato come Padre. Padre nella cultura dell'epoca è colui che genera e che comunica la vita. Il Padre vostro che è nei Cieli. Quindi l'invito di Gesù è che la pratica delle beatitudini è questa luce che piano piano inonda la società, che sta nelle tenebre e che è assettata di questa appendenza di vita.